Parliamo di credenze. La brutta notizia è che siamo tutti immersi nelle credenze. La bella notizia è che, facendo delle cose, proseguendo nel nostro cammino di risveglio, possiamo accorgerci via via di avere una misura della nostra evoluzione. Dapprima noi siamo immersi nelle credenze e crediamo di non averle, ma siamo completamente dominati da quello che ci hanno insegnato le varie figure di riferimento, genitori, insegnanti, preti e così via. Poi incominciamo ad accorgerci e a valutarle e a cercare di selezionare e scegliere quelle da tenere. E così nascono i valori, no? Per esempio, il valore della famiglia nasce da una credenza. E se dentro c'è la credenza che la famiglia sia quella tradizionale, allora i nostri valori diventano che diventiamo contrari al matrimonio omosessuale, per esempio. Quindi i nostri valori sono determinati dalle nostre credenze e da quello che noi ne possiamo fare. E poi c'è il pensiero scientifico, il pensiero critico, che ha la pretesa di riconoscere, non farsi influenzare dalle credenze. E allora riflette sui propri pensieri, cercano di non mettere le credenze in mezzo. Solo che esiste un fenomeno che si chiama riflessività, cioè la tendenza a fare, a ottenere risultati che confermano le nostre credenze. E se noi non ci accorgiamo che ci sono delle credenze implicite, perché man mano che noi crediamo in qualche cosa, questo finisce nel nostro, potremmo dire, inconscio, negli automatismi del comportamento, per cui non ci accorgiamo più di avere queste credenze che appunto allora diventano presupposti impliciti. Questo succede a tutti noi, compreso i signori che stanno decidendo della nostra vita di questi tempi. Quindi che cosa manca, signori? Manca uno strumento che si chiama consapevolezza, l'osservazione di sé. Se noi non attuiamo, non conosciamo cosa significhi la padronanza dell'esperienza interiore, se non conosciamo cosa significhi osservarci osservare, indagare le nostre emozioni, i nostri demoni interiori, le nostre passioni, i nostri desideri e le nostre paure, se nessuno ci insegna che è un mondo quello di indagare il mondo interiore, perché viene considerato secondario, viene considerato un lusso per coloro che non hanno nulla da fare. Ecco che allora i presupposti impliciti continuano a guidarci. E cosa succede? Che diventiamo intolleranti nei confronti di chi la pensa diversamente. Quindi, se vogliamo uno strumento da attuare di questi tempi così contrapposti, rendiamoci conto che noi possiamo osservarci osservare. Rendiamoci conto che ogni volta che noi avvertiamo una certa avversione, ogni volta che noi avvertiamo una certa reattività, è qualche presupposto implicito che sta lavorando. Scaviamo dentro con lo sguardo della consapevolezza, dell'onestà di restare in silenzio al cospetto di noi stessi. E come fare? Lo abbiamo già detto in passato. Come fare? Quello che succede nel mondo esterno è un riflesso di quello che succede nel mondo interno. quindi usiamolo come specchio per guardare quello che succede nel mondo esterno, in modo che potremo attraverso lo sguardo unico della consapevolezza riconoscere i nostri presupposti impliciti e liberare la nostra anima, il nostro sé. E allora sì che ci accorgeremmo che i valori, quelli veri, sono già lì, sono sempre stati lì, emergono a filo dal nostro sé, dalla nostra vera natura, perché la vera natura individuale è universale, è architipica. I valori sono architipici, noi li contattiamo e ci facciamo guidare quando prendiamo il coraggio di fare il vuoto, di stare in contatto e di osservare, e di osservarci osservare. Quando comprendiamo cosa questo vuole dire, quando abbiamo una minima idea di cosa significa consapevolezza, cosa che sembra che molte e poche persone nella società attuale prendano in considerazione. Grazie. Grazie.